ciao a tutti sono astrale e oggi vi mostro il pulsante classifica presente su questa pagina del sito www astralfantasyworld.it nello scorso video eravamo rimasti sulla pagina arruolamento nella quale è possibile iscriversi una volta iscritti si appare in questa grande pagina insieme a tutti gli altri utenti e si possono monitorare i propri progressi in base al punteggio generale e a livello raggiunto qui è presente il tuo nome qui c'è il tuo grado e qui ci sono i punti che guadagnato nel corso del tempo cliccando sui nomi degli utenti si possono osservare le loro schede personaggio e gli oggetti guadagnati per avere un'idea di ciò che si può vincere facendo i giochi è utile osservare le altre schede per vedere così le evoluzioni delle classi nel tempo e la loro descrizione importante essere costanti a collegarsi almeno una volta al giorno per guadagnare 20 punti necessari che contribuiranno nel tempo a far crescere il tuo personaggio bene per oggi è tutto e vi aspetto nel prossimo video un saluto da astrale grazie grazie